Un cordiale saluto da Andrea Biagioni di Florence Smart per gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana. Traffico che scorre in maniera regolare su tutta la rete stradale e autostradale. Sulla 1 Panoramica si ricorda che domani, 30 settembre, a causa di lavori in orario 8 o 19 rimarrà chiuso il tratto tra il Bivio con la variante Roncobilaccio in direzione Bologna. Sul raccordo Siena Firenze per scambio di carreggiata possibili rallentamenti tra San Casciano e l'allacciamento con la 1 Firenze in Pruneta. Sulla statale Trebis e Tiberina sempre a causa di lavori sono chiusi gli svincoli di Val Savignone e San Sepolcro Sud in direzione Ravenna. Uno sguardo ai cantieri della città di Firenze domani, 30 settembre, in orario 9.18 per l'allestimento di un cantiere edile sarà chiusa via del Vetriciaio, tra via Ponte alle Mosse e via Toselli. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!